Noi, credo che venivamo a Corugina, che si inspirano e oggi ci sono i tuoi figli di Pagliari. Se viene bene, si faranno i tuoi figli di Pagliari il 5 e 6 giugno. Le nostre atrelle sono Alessandra, Marta e Giulia. Le nostre figli di Pagliari, una specialissima, la segnale è la nostra figlia Giulia. E qua abbiamo Marta e Alice, e dentro a voi esibizioni da Pagliari in terza categoria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.